Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sopra una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Estretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fruttus ventis tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora promovis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vengo a te A far mia la vita Il fiel supremo Voglio essere Il tuo Ecco Nel diffondere su tutto l'amore divino Mio Dio E chiederti per tutti il tuo regno mio Dio ti dono il mio volere mio Dio Il mio regno del fiel supremo mio Dio ti dono il mio volere mio Dio Bambi il regno del fiel supremo mio Dio Grazie a tutti. 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 non c'è mai stata. Ci sono stati alcuni eretici, tra i primi furono i donatisti contro cui combatté Sant'Agostino, poi a cicli sono ricomparsi nel corso della storia della Chiesa che volevano creare una sorta di Chiesa di Puri, avevano questo mito. Attenzione, come in tutte le eresie, questo mito non è, come dire, del tutto da buttare via, ecco, perché la Chiesa, la Sposa di Cristo, è tutta chiamata fin da questo mondo a risplendere di luce, come sappiamo dall'insegnamento lo stesso autorevole della Chiesa stessa, anche nell'ultimo concilio. Cristo è il lumen gentium, la luce delle genti e la Chiesa ne dovrebbe essere riflesso, vivo, fecondo, cristallino, solare. Ecco, ma Sant'Agostino stesso, proprio combattendo contro i donatisti, diede questa definizione del corpo mistico di Cristo, lo chiamava corpus per mixtum, cioè corpo frammischiato, dove convivono membra sane e membra malate. Chi sono queste membra malate? Sono persone che più o meno a vari livelli vivono in maniera difforme da come dovrebbe vivere un figlio di Dio, cioè sono più o meno implicate in situazioni di peccato. È chiaro che le membre verminose e profonde, ricordando un pochino di immagini usate anche nella letteratura spirituale, danno da pensare a quelle anime che purtroppo si lordano nell'impurità, che produce proprio una putrefazione della nostra anima. E quelle che rimangono a toccare soltanto con un nervo sono immagini di quelle anime talmente messe male che è un miracolo che ancora in qualche modo stiano legate a questo corpo. no? La cosa abbastanza sconvolgente è che Luisa stessa nota che le membra erano di tante altre persone specialmente religiose. Ora, è evidente che da religiosi, i religiosi nella Chiesa hanno proprio come compito, come ragione di essere esattamente quello di mostrare la perfezione a cui la Chiesa è chiamata. Ecco, la Chiesa dei Puri non può essere realizzata e non esiste in questo mondo, perché la perfezione è una chiamata, è una chiamata che richiede grande sacrificio, grande eroismo, per cui la Santa Madre Chiesa nella sua dimensione materna ha sempre sottolineato, sì, quello che il Signore chiede, diciamo, strettamente a tutti quanti i membri della Chiesa è l'osservanza dei Dieci Comandamenti. Santa Teresa diceva, senza di quelli in paradiso non si entra, ma la perfezione che pure il Signore desidera, perché nel discorso della montagna ha esortato, siate perfetti come ha perfetto il Padre vostro celeste, è un'operazione che ciascun membro della Chiesa deve interiorizzare, deve comprendere, deve fare sua e deve liberamente scegliere. Perché non si va all'inferno se non si arriva alla perfezione, se va in purgatorio, purché si resti al di qua della legge di Dio, quindi dentro il recinto dei Dieci Comandamenti. E per cui non può essere imposta per legge assoluta, ciò che è per volontà di Dio stessa è un qualche cosa che stimola ed esorta la libertà della persona, perché se uno tende alla perfezione, dà una grandissima gloria a Dio, andrà molto in alto in paradiso, ma sarà anche molto felice sulla terra e darà molte gioie a Gesù. Quindi bisogna essere ben motivati e molto radicati anche nell'amore. Ora però, quando uno diventa religioso, gli istituti religiosi, questo lo si sa per chi ha studiato un pochino della vita della Chiesa, per definizione, la ragione d'essere dei religiosi è proprio esprimere, mostrare a tutti i fedeli la bellezza della vita di perfezione. Lo stato religioso anticamente era chiamato proprio lo stato di perfezione. Perché? Perché attraverso i tre voti di povertà, obbedienza e castità si rinuncia in maniera folle, scusate, in maniera forte ai primi tre vizi capitali, che sono i primi tre vizi del mondo. Attraverso l'obbedienza uno rinuncia alla superbia, che è la cosa più grave che esista, e quindi alla radice del peccato, quindi la volontà propria. Attraverso la povertà si rinuncia ai soldi e attraverso la castità si rinuncia alla lussuria, quindi i superbi avarizzi e lussuria sono sterminati. Poi ci si obbliga a vivere sotto una regola, e anche vivere sotto una regola è una cosa facoltativa, che però incanala la nostra vita. Poi ci si obbliga ad alcune pratiche di perfezione, che poi ciascun istituto è canonicamente esplicita e formano le proprie costituzioni specifiche. Poi si vive in comunità, quasi sempre, la vita in comunità è una grande scuola di perfezione e di santità. Quindi è chiaro che vedere dei religiosi degni di questo nome offre uno spettacolo edificante a tutti, perché anche se non tutti siamo chiamati ad essere religiosi, come la Chiesa ha insegnato nel Concilio Vaticano II, tutti sono chiamati alla santità. Significativamente, nella Lumen Gentium, il capitolo sulla vocazione universale alla santità è stato inserito prima del sesto capitolo, è il quinto. Il sesto capitolo è dedicato appunto ai religiosi, no? Ma nel quinto, prima di affermare che nella Chiesa i religiosi hanno come compito istituzionale quello di tendere alla santità e di rappresentare la perfezione, si afferma nel quinto che tutti sono chiamati a tendere alla perfezione della vita cristiana, certamente purché lo desiderino. Quindi laici, chierici e chiaramente per antonomasia i religiosi. Allora, è evidente, no? Che, come diceva già San Bernardo, se un religioso che ha fatto, come dire, professione di voler tendere alla perfezione, commette un peccato, Dio non voglia, mortale, cioè, è evidentissimo, insomma, non ci vuole tanto per comprenderle, che tale peccato mortale per le qualità soggettive di chi lo ha compiuto è enormemente più grave di un equivalente peccato mortale commesso da un non religioso. Stessa cosa vale per i peccati Dio non voglia commessi dai ministri, no? San Tommaso d'Aquino diceva parlando del sacerdozio cattolico, dice che questo fa chiaramente venire la pelle d'oca, se non lo prende sul serio. Il sacerdozio, quindi essere uniti a Cristo capo e sacerdote e pastore e incarnarne la sua vita, rappresentarne la figura ed esercitare i suoi poteri efficacemente, realmente, richiede, diceva lui, nell'anima che assume il sacerdozio una tale perfezione come quella di un religioso consumato, cioè diceva che chi abbraccia la vita religiosa è perché vuole tendere la perfezione e chi invece accede al sacerdozio è perché già è perfetto, e può quindi abbracciare il sacerdozio e addirittura gli inavanza la sua perfezione per poter insegnare e darsi al prossimo. Questo diceva San Tommaso d'Aquino, insomma, che non è certamente l'ultimo arrivato, no? Allora, si vede anche nelle ore della passione, no? Quando a un certo punto proprio il padre dice a Gesù, dice ma guarda un po', ma chi è che ti ha ridotto in questo modo? Ma è possibile che anche la parte letta dei tuoi discepoli, no? Ti massacra in questo modo, manco loro, insomma, ecco, e fa chiaramente riferimento a questo problema, a questo problema. Allora, il discorso è questo, come si risolve questo problema? Allora, assolutamente parlando, questo problema non si può risolvere. E noi tutti quanti dobbiamo anzitutto fare molta attenzione a non scandalizzarci della presenza del male in alcune membra, come disse al suo tempo San Giovanni Paolo II, quando come rappresentante di tutti i figli della Chiesa chiese perdono per le colpe di alcuni figli, attenzione, non della Chiesa in quanto tale, perché la Chiesa in quanto tale, in quanto sposa di Cristo nella sua realtà misterica e sopranaturale, non pecca e non può peccare. Adesso questa non è una catechesi, è una meditazione, non c'è tempo di approfondire questo punto, no? Però i figli della Chiesa, o i membri della Chiesa, come si vede qui, certo che possono peccare, perché ciascuno di essi conserva il libero arbitrio e non è confermato in grazia. Quindi se non esercita bene il proprio libero arbitrio, se non cerca la divina volontà, se non si unisce alla divina volontà, certo che può peccare, può essere dentato e può peccare. e a volte può farle grosse, tali da dover poi, come dire, in qualche modo necessitare per lo scandalo dato, ecco, che chi rappresenti la Chiesa, facendosi in qualche modo carico anche di queste miserie, giustamente chieda perdono. Ecco, perché noi facciamo presto a fare i peccati, no? Ma a volte non chiediamo nemmeno perdono a Dio. Eh, ma quando noi facciamo un peccato che coinvolge il prossimo, noi dobbiamo chiedere perdono al prossimo, eh. Perdonare a tua moglie, perdono al tuo marito, perdono al tuo amico, perdono al tuo dipendente, quando tratti male qualcuno, quando offendi qualcuno, perdono al tuo prossimo. Questo in pochi lo fanno, ma è doveroso farlo, che quando si manca nei confronti anche del prossimo si chiede in primis perdono a Dio, perché anche le mancanze della carità fraterna sono offese a Dio o all'amore fraterno, ma poi si chiede anche perdono al diritto interessato. Ecco, chiusa questa parentesi. Quindi non dobbiamo scandalizzarci della presenza di queste cose nella Chiesa. La seconda cosa però è che non dobbiamo evidentemente cooperare alla diffusione di queste cose, no? Cioè una piaga infetta si fascia, primo perché è orribile a vedersi, secondo perché fasciandola forse sicura, ecco, e terzo perché se la lasci, insomma, è esposta, puzza ed è orrida a vedersi, no? Allora, che cosa dobbiamo fare quando vediamo qualcosa che non funziona in qualche membro della Chiesa? Numero uno, il primo soggetto di meditazione dobbiamo essere noi stessi, d'accordo? Perché Gesù non vuole che si guardi i peccati degli altri e si dimentichino i propri. E non dobbiamo dimenticare che ha sempre detto che di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra e disse questo in riferimento ad una peccatrice reale, quindi non era una calunnia, quella era un'adultera. Sorpresa e inflagrante adulterio, quindi era una pubblica peccatrice, cioè una persona che dava scandalo. D'accordo? A quei tempi era ovvio che l'adulterio fosse un pubblico scandalo, oggi è molto meno chiaro, insomma, però a quei tempi lo era. E non è che ha avallato il peccato di questa donna, ma ha raccomandato che nessuno di noi si senta il puro della situazione e l'immacolato della situazione, nel senso che anche nei confronti di un pubblico scandalo si deve esercitare, certamente in modo consono la misericordia, quantomeno non scagliando la prima pietra e non scandalizzandoci. Quindi non dobbiamo scandalizzarci, ma non dobbiamo neanche diffonderli, cioè non giova andare a raccontare in giro a destra e a manca, non lo so se io vedo un religioso che dà cattivo esempio, un prete che dà un cattivo esempio, ne comincia a parlare, a mormorare, non soltanto che non giova, è peccato farlo. E si fa ulteriore male, non soltanto alla Chiesa, ma si dà ulteriore dolore a Gesù, perché quel peccato che ho conosciuto dovrebbe rimanere nascosto nel mio cuore e diventare oggetto della mia preghiera per la conversione di quella persona e se sono capace, come faceva Luisa, baci e riparazioni a Gesù perché quel peccato fa male al cuore di Gesù e fa danni alla Chiesa, fa danni oggettivi anche se nessuno lo conoscesse, e gravi, e ne deturpa l'immagine agli occhi del mondo e dà occasione a Satana per gettare fango sopra la Chiesa e contro la Chiesa. Quindi che tipo di reazione abbiamo? Scandalizzarci e andare a dire Oh ma guarda quello, quella suora che ha fatto Oh ma guarda quel frate che ha fatto Oh ma guarda quel prete che ha fatto Oh ma guarda quel vescovo che ha fatto Ripeto, uno è peccato farlo Secondo, addolora ulteriormente il cuore di Gesù E terzo, danneggia ancora più gravemente la Chiesa già ferita e danneggiata da quel comportamento qualora fosse oggettivamente cattivo Poi c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare Tu sei sicuro di essere migliore di quel peccatore? Sei così tanto sicuro? San Francesco non lo era Perché se anche supponiamo che tu non facessi adesso e attenzione poi c'è anche da vedere se l'hai fatto in passato qualche cosa di simile e questo dobbiamo sempre analizzare bene nella nostra coscienza Nessuno ti assicura che tu non potresti farlo Anzi, è proprio dell'umiltà mentre ci si addolora nel vedere un peccato altruo e dire, eh, fortuna che il Signore mi ha preservato da questa cosa ma se il Signore non mi avesse aiutato con la sua grazia non mi avesse custodito forse io avrei fatto di peggio E quel forse poco dubitativo ecco, e tanto insomma per dirlo perché non sappiamo con certezza il futuro ma dovrebbe essere un forse più tendente a probabilmente questo ci deve stare questo qui questo è proprio dell'umiltà e pensa anche come pensava sempre San Francesco che se non le hai fatte quelle cose forse il malcapitato che le ha fatte se avesse ricevuto i doni, le grazie, la famiglia, l'educazione non lo so che cosa che hai ricevuto tu non solo che non le avrebbe fatte ma sarebbe diventato più santo di te altro aspetto fondamentale poi come facciamo a sanare queste piaglie? quindi come facciamo a far crescere la Chiesa? c'è un solo sistema cura la santificazione tua fai in modo di far parte come si vede in questa immagine di quelle membra risplendenti di luce che ricreano quel capo e gli danno tantissima gloria cioè fai in modo che Gesù guardando te possa essere un minimo consolato e al tempo stesso perché le membra che stanno rovinate riparato baci e abbracci a riparazione a Gesù e poi soffrendo con Gesù lo preghi per queste membra cioè noi non possiamo uscire dalla Chiesa facendoci il mito della Chiesa dei puri come i donatisti come nel Medioevo i catari eccetera perché vediamo peccati anche grossi scandali allora io non ci voglio avere niente a che fare con questa gentaccia allora dita puntate rivoluzioni ehi Gesù contempliamo Gesù flagellato Gesù non non si taglia la testa capite la metafora se la Chiesa è il corpo mistico di Cristo Gesù è il capo ma quando le sue membra fanno vomitare perdonatemi l'espressione non è che dice io vi mollo ora mi taglio la testa e andatevene tutti quanti per la vostra strada e non voglio avere niente a che fare con voi cosa fa Gesù? soffre punto soffre a causa dei peccati dei membri della Chiesa soffre come il capo della Chiesa soffre come il nostro fratello certo che cerca di intercedere certo che quelle membra se non si convertiranno andranno in putrefazione faranno una brutta fine quando Sant'Agostino parlava di quel corpo per mixtum diceva sì in questa terra peccatori e giusti convivono insieme e i giusti devono sopportare anche la presenza dei peccatori con amore devono pregare per loro ma poi come dicono le parabole del Vangelo si farà la cernita la separazione perché in paradiso non c'entrano queste cose quindi anche coloro che reclamano giustizia o cose di questo genere devono avere soltanto un pochino di pazienza è sempre meglio invocare una misericordia che non reclamare giustizia perché capiamo se il nostro Signore dice va bene faccio giustizia la faccio anche con te però e noi siamo così sicuri di poter apparire dinanzi al rigore della giustizia divina tranquilli è sempre meglio invocare la misericordia la divina giustizia purtroppo non mancherà con grande dolore tra l'altro di Gesù di fare il suo corso quanto meno al termine di questa vita cosa di cui certamente Gesù non gioisce perché Gesù gioisce della salvezza non della rovina delle anime però è sempre preferibile invocare per tutti la misericordia anche per le persone che fanno tanto soffrire anche per le persone che Dio non voglio oggettivamente gettassero fango deturpassero ripeto l'atteggiamento della sofferenza silenziosa orante e riparante cioè soffrire con la chiesa considerare quelle sofferenze come mie cioè il fratello che pecca o che scandalizza ancora di più se fosse un religioso o un membro dell'ordine sacerdotale a tutti i livelli quella è una cosa che riguarda anche me è una cosa che io soffro con lui quindi d'accordo mi coinvolge e me ne faccio carico come Gesù che ha preso tutti i peccati degli altri non mi chiamo fuori certo che si soffre non è bello vedere queste cose è un aspetto una dimensione non l'unica della Santa Croce allora nella chiesa si vive così se si vuole interpretare i sentimenti e il cuore a quanto pare a quanto ci è dato di comprendere anche da queste parole del suo fondatore del suo capo soffriamo e ci facciamo carico dei peccati degli altri tranquillamente io conosco sacerdoti li conosco che qualche mangia preti insomma anticlericale laicista li ha incontrati per strada e li ha insultati pesantemente dicendo tu cosa fai ancora in giro brutto pedofilo levati dalla mia faccia capite il senso di questa offesa siccome i media nei tempi passati hanno fatto rimbalzare con estrema come dire puntualità alcune cose assolutamente disdicevoli e disecrabili insomma fatte da alcuni poveretti che succede? succede che poi si crea la mentalità che i preti sono tutti così ecco il poveraccio che magari cerca di fare il suo lavoro da parroco da pastore poveramente certamente si becca l'epiteto pedofilo e che cosa fa quello? deve lanciare gli accidenti? se lo tiene soffre facendosi carico purtroppo di questa infermità non lo è il signore lo sa che non lo è ecco farà una preghiera in più per quei poveri disgraziati perché chi ha fatto queste cose è altro che penitenza che deve fare per tutta la vita e perché soprattutto non accadano mai più robe di di questo genere capite ecco quindi noi amiamo la chiesa perché la ama Gesù soffriamo con la chiesa perché ci soffre Gesù e soffriamo per la chiesa perché ci soffre Gesù sappiamo che non è possibile ecco se ci stacchiamo da questo corpo non accordo andremo semplicemente in putrefazione a noi per primi se rimaniamo in questo corpo dove alcune membra sono infette voi capite che quando una parte del mio corpo è infetta non è che soffre solo la mano soffro io soffre tutta quanta la persona ecco però il signore gradisce queste sofferenze di condivisione con le sue e i modi santi per intercettarle e per affrontarle non ci sono altri modi per affrontarle se non quelli che il signore ci ha fatto comprendere esternando anche il suo dolore e pazientando anche con coloro che purtroppo straziano la sua persona dilaniano la chiesa e mandano in putrefazione purtroppo alcune sue membra grazie a tutti grazie a tutti le membra malate della chiesa straziano il tuo cuore immacolato non meno di quanto straziano il tuo figlio Gesù e le tue linee di comportamento in mezzo a queste situazioni sono certamente conformi a quanto abbiamo meditato tu hai sempre chiesto preghiera e sacrificio hai fatto riferimento in alcuni messaggi in maniera generica alle situazioni di sofferenza ma sempre coprendo con il velo della carità mai facendo riferimenti a situazioni particolari e sempre sortando a pregare a perseverare a riparare a sacrificarsi e ad andare avanti nell'unica chiesa di Cristo che tu per prima ami e che tutti noi con te e in te dobbiamo amare aiutaci a interiorizzare bene queste cose perché la nostra povera vita pur che in tutte le sue miserie e imperfezioni possa essere fonte di gioia e di consolazione per te e per Gesù perché possiamo avere la grazia pur essendo indegni e peccatori di appartenere a quelle membra messe un pochino meglio nel corpo della Chiesa che almeno non danno dolore al tuo cuore e a Gesù e che magari piano piano riusciranno anche a dargli un pochino di riparazione e di consolazione questo te lo chiediamo oh Divina Maria con tutto il cuore questo desideriamo con tutti noi stessi fattene portatrice presso il tuo figlio Gesù perché questo possiamo realmente vivere nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per perdonarti ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti